Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2 e siamo finalmente, col tanto richiesto, video dedicato alla meccanica dei partner. Infatti sì, dovevo portarvelo qualche settimana fa o qualche giorno fa, però me ne sono completamente dimenticato, quindi grandissimo. Blaziken continua così. Meno male che me l'avete ricordato voi nei commenti e mi fa piacere anche che in molti mi abbiate richiesto per l'appunto questo video. Quindi eccoci qui, ci siamo finalmente e vediamo un pochino come funziona questa meccanica. Allora, ve lo dico, non è nulla di difficile, anzi è semplicissimo il funzionamento, però ammetto che all'inizio se non si conosce bene la meccanica è un pochino, non strana da utilizzare ma difficilotta da capire. Perché ci vogliono dei requisiti per attivare ogni singolo partner, o meglio per attivare ogni singola suprema doppia. Partiamo dalla primissima cosa, ok? Dalla cosa più importante in assoluto, dove altrimenti non riuscite mai, e dico mai, ad attivare una suprema doppia. I maestri, i maestri sono i vostri partner. Altri personaggi non possono diventarlo, ad esempio, ad esempio, Goku Super Saiyan Blue. Trovate Goku Super Saiyan Blue come maestro per Canton City? No, e allora vuol dire che non potrete mai portarvelo come partner e non potrete mai, e dico mai, effettuare una suprema doppia, ovviamente, insieme a Goku Super Saiyan Blue. Stessa cosa con Magi in Vegeta, stessa cosa con Goku Super Saiyan di quarto livello, stessa cosa con Vegeta Super Saiyan di quarto livello. Insomma, credo che la cosa sia chiara. Quindi, appurato il primo requisito, o meglio, il primo non requisito, passiamo al primissimo vero e proprio requisito. Dovete raggiungere il grado massimo con i vostri maestri, quindi il grado massimo d'allenamento, come fare sempre la solita solfa. Cercate un maestro, quindi, all'interno di Canton City, lo fate diventare, per l'appunto, il vostro maestro, e raggiungete il suo grado massimo, ad esempio, giocando sempre missioni. Per controllare il grado massimo, vi portate su dati di gioco, qui ovviamente è la versione PC, quindi non fateci caso, ai dati che vedete. Vi portate all'interno dei dati di gioco, vi portate in questa schermata e riuscite a visualizzare il grado dei vostri maestri. Quindi, per dirvi, se a noi serve un partner tipo Gohan e serve quindi la suprema doppia con lui, dovete raggiungere il grado massimo con Gohan e Videl come maestri. E vi daranno uno la Super Kamehameha doppia e l'altra invece vi darà la combinazione della giustizia. Quindi credo che questo primo passo sia davvero semplicissimo dal punto di vista teorico. Quindi, cercate il vostro maestro, cercate colui che volete far diventare il vostro partner, con cui quindi volete fare anche la suprema doppia. Lo fate diventare il vostro maestro, raggiungete il grado massimo, ed una volta raggiunto il grado massimo, andategli praticamente a parlare e lui vi restituirà la sua suprema doppia, che varrà sia per lui che anche per voi. Una volta quindi concluso il primo step, quindi l'ottenimento della suprema doppia, dovete andare a personalizzare il vostro partner. Per personalizzare il vostro partner ci sono dei robottini sparsi per la città, che prendono il nome per l'appunto di personalizzazione partner. Questi robottini sono sparsi, ma li trovate essenzialmente sia davanti al banco delle battaglie, sia davanti al banco anche delle missioni parallele. Eccoli qui. Quindi, vi portate dal robottino personalizzazione partner, scegliete il vostro maestro, scegliete il vostro partner, che vi ha dato quindi la suprema doppia, e lo andate a personalizzare. Ad esempio, vogliamo personalizzare Gohan, vogliamo aggiungere la suprema doppia. Andiamo su Gohan a tutto. Eccolo qui. Possiamo sì cambiare il costume, possiamo cambiare ovviamente il colore. Qui ho messo dei colori a casissimo, bruttissimi tra l'altro. Dai, cambiamolo un pochino meglio. Dai, ancora più orribile, va bene così? Quindi gli cambiate il costume, fate tutto ciò che vi pare e piace sul personaggio. Davvero, potete sia renderlo bruttissimo, sia iper mega bello. E soprattutto, ecco qui, dovete andare su cambia settabilità e dovete equipaggiarvi come suprema, proprio la suprema che lui vi ha restituito. Quindi, se prima aveva, ad esempio, queste supreme, una volta ottenuta la super kamehameha doppia dal vostro maestro, dovete equipaggiargliela. Eccola qui. Adesso l'avete equipaggiata. E dovete fare la stessa, identica cosa, anche sul vostro personaggio. Quindi andate nel vostro settabilità e andate ad equipaggiare proprio la suprema doppia. Quindi, super kamehameha doppia. Prima di entrare in missione, quindi, c'è la scelta dei personaggi. Cosa dovete scegliere qui, essenzialmente? Dovete scegliere il vostro personaggio su cui avete equipaggiato la suprema doppia. Quindi, super kamehameha doppia, Gohan adutto. Andiamolo a scegliere. Dovete anche scegliere come vostro compagno, non il personaggio che desiderate, ma dovete scegliere proprio il suo slot partner. Quindi, partner personalizzato dove avete anche personalizzato proprio la suprema doppia. Quindi, ecco qui, Gohan equipaggiato la super kamehameha doppia, Gohan adutto. Quindi scegliamo lui. Scegliamo dei personaggi a caso per dirvi Yamcha e Nappa. Va bene così, Yamcha e Nappa. Portiamoci all'area d'atterraggio capsula. E qui, cos'è che dovete fare? Non dovete fare altro che per utilizzare la super kamehameha doppia, per esempio, o una suprema doppia, dovete portarvi, diciamo, vicino al nemico. Ecco, dovete combattergli ravvicinatamente. Utilizzate la vostra suprema, che solitamente utilizza sempre circa 300 d'aura, quindi 3 tacche d'aura. E il vostro partner dovrà rispondere alla vostra richiesta. Perché sì, se voi inviate la richiesta, ma il vostro partner è impegnato e quindi non può rispondere alla vostra richiesta, avrete praticamente speso 300 d'aura, così, senza nulla. Quindi, proviamo. Ecco qui, grandissimo Nappa che ci evita la nostra suprema doppia e non ci fa nemmeno inviare la richiesta, tra l'altro, al partner. Quindi cerchiamo di calargli il vigore, che già abbiamo fatto, tra l'altro. Quindi adesso non dovrebbe riuscire più ad evitarci. Ok, non continuo. Ecco qui, doppio spezza limiti. E finalmente il nostro partner ha accettato la richiesta. Quindi, una volta accettata, come potete vedere, parte la suprema doppia. Facciamo così, proviamo qualche altra suprema doppia, ok? Ecco qui, proviamo ad esempio la suprema doppia di Bardak, quindi calore coraggioso doppio. Quindi, ovviamente, equivaggiamo sempre la suprema doppia che abbiamo ottenuto dal nostro maestro a livello massimo. Quindi calore coraggioso doppio. E scegliamo il nostro personaggio. Scegliamo anche lo slot partner del personaggio che vogliamo utilizzare, quindi il nostro maestro, sul cui abbiamo equipaggiato il calore coraggioso doppio, per dirvi. Quindi scegliamo lui. Scegliamo sempre qualche personaggio così a casissimo. Quindi scegliamo... va bene così, TN e Frost. Portiamoci ancora una volta all'area adatterraggio capsula. E quindi qui non dovete fare altro, non c'è bisogno che il vostro maestro, che il vostro partner in realtà debba essere per forza il vostro maestro. Una volta che avete ottenuto le mosse, potete utilizzarle tranquillamente, basta che le equipaggiate. Quindi, ancora una volta, entrate in battaglia, combattete, cercate di caricarvi sempre i vostri 300 d'aura. Quindi le vostre 3 tacche d'aura. Vediamo se qui ce lo fanno fare. Ecco qui. Allora, dai, fammi un altro teletrasportino Frost che mi servirebbe. Così ti faccio anche calare il vigore a picco. Allora, abbiamo i 300 d'aura cariche e vediamo un attimino se... Ah no, l'ho utilizzato... no, perché? Perché è proprio un tempismo, vabbè. Tempismo delle galline, c'ho. Non chiedetemi quale tempismo hanno le galline, ma c'ho quel tempismo io. Allora, facciamo ricaricare di nuovo 300 d'aura. Quindi, divinità sbloccata. Potete ovviamente effettuare qualsiasi trasformazione, potete fare qualsiasi cosa. Adesso, eccolo qui. Doppio spezza limiti, ha accettato il nostro partner e quindi parte la suprema doppia, come potete vedere. Doppio calore coraggioso. E come potete vedere, è davvero una gran figata di meccanica. Ovviamente vi ripeto, non fateci troppo affidamento sulla cosa, eh. Perché il vostro partner potrebbe non rispondere alla vostra richiesta. E quindi rischiereste praticamente di aver buttato 300 d'aura così nel nulla. Dovete fare anche attenzione a beccare il nemico. Però, come vedete, più o meno, se riuscite a concatenare con qualche convocarina la suprema doppia, riuscite a fare qualcosa di interessante. Come danni, non siamo a dei danni elevatissimi, però, per essere 300 d'aura, secondo me, sono buoni come danni. E sono buoni. Ovviamente da una suprema doppia ci si aspetterebbe tutt'altri numeri, eh. Però, vi ripeto, è carina come meccanica. La utilizzeremo sicuramente, di solito, in missione. E, insomma, fatemi sapere con quale partner vorreste vedere proprio questa meccanica delle supreme doppie, d'ora in poi. Io, ovviamente, sceglierò Gohan, però, fatemelo sapere voi. Quindi, signori, spero vivamente che questo video vi sia stato d'aiuto. Spero di essere stato esaustivo. Spero anche, quindi, di essermi spiegato bene. Se avete qualche dubbio, fatemelo sapere con un commentino che vi risponderò assolutamente. Quindi, a questo punto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento. Iscrivetevi al canale, se ancora non siete iscritti, condividete questo video. E quindi noi ci diamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video. Iscrivetevi al canale.